Ormai ci siamo, si sta avvicinando l'imponente progetto Nuvolosa, sta crescendo anche in periodo di pandemia, ce ne parla naturalmente il cuore di questo progetto, l'assessore Gabriella Bessona, ci racconti tutto. Allora sì, quest'anno devo dire che siamo molto più soddisfatti, perché nonostante le ultime due edizioni, che comunque col fatto della pandemia siamo stati molto limitati, il 5-6 è veramente da vedere questa mostra, perché la qualità dei progetti che sono arrivati, quindi delle tavole di fumetti che sono arrivati, sono veramente notevoli. Mi diceva, in fase di giudizio, il nostro direttore artistico Statella, che Nuvolosa sta veramente adesso andando, proprio se ne parla, nelle varie fiere e quindi per noi è una grande soddisfazione. Allora diciamo che quest'anno hanno partecipato più dell'80% delle regioni italiane, quindi su 21 ne hanno partecipate 18 e tra l'altro, proprio in virtù del fatto che le tavole sono talmente belle che abbiamo aumentato di due progettisti, di due disegnatori, quindi il catalogo non sarà più da 10 tavole, ma bensì da 12 autori. Ma non solo a livello nazionale, perché anche la sezione, quella locale, con i ragazzi del Quintino Sella, sono arrivati dei lavori decisamente di alta professionalità. 5-6, quest'anno facciamo veramente i due giorni, quindi il sabato 5 ci sarà la premiazione, l'apertura della mostra e poi tutto il giorno successivo, la domenica, la visita e con i 34 autori.